Le immagini che abbiamo visto sono davvero raccapriccianti, persone innocenti, trucidate, giustiziate, gettate nelle fosse comuni, ci riportano indietro di un secolo, l'Europa viene riportata indietro di un secolo ed è veramente inaccettabile. Spero che tutti, compresi i russi, quindi Putin, lavorino per individuare i colpevoli e per punirli, perché non è accettabile che anche un conflitto possa vedere episodi di questa natura a danno di persone innocenti e disarmate. Detto questo è ovvio che ci debba essere intanto un'iniziativa diplomatica, ci deve essere un cessato il fuoco, ci deve essere un ritiro immediato delle truppe russe, Putin deve avviare delle trattative vere per interrompere questa mattanza del popolo ucraino e arrivare comunque a una pace. C'è stato un tweet ieri che ha fatto scalpore, scritto in inglese, che è quello del segretario del PD Letta, che chiede un embargo totale alla Russia. La posizione dei fratelli d'Italia qual è? Guardi, noi saremmo favorevoli all'embargo perché pensiamo che sia necessario comunque dare un segnale importante, la Russia deve liberarsi dell'autocrazia come metodo di governo della propria nazione, della dittatura nel minor tempo possibile perché invece l'Europa deve dialogare con la Russia, con una Russia democratizzata e disponibile comunque al dialogo, all'integrazione col mondo europeo e occidentale. Detto questo non vorremmo che l'Italia pagasse in prima persona la ricaduta di un embargo immediato. Ecco, forse io non ho gli elementi per giudicare, quindi in questo momento esprimo una mia personalissima opinione. Siamo d'accordo sul principio, non so se siamo in grado già da domani mattina di chiudere i rubinetti e non far arrivare più il gas dalla Russia. Ci dobbiamo arrivare perché dobbiamo essere autosufficienti e questo lo diciamo da anni. Non governiamo e quindi non abbiamo potuto fare nulla da questo punto di vista per raggiungere l'obiettivo. L'ultima domanda, ieri Orban ha vinto le elezioni, c'è festa anche all'interno dei Fratelli d'Italia? Orban è stato sempre un interlocutore dei Fratelli d'Italia. L'Ungheria è una nazione importante e la sua posizione oltretutto è strategica perché nel cuore d'Europa siamo soddisfatti della sua vittoria. Penso che sia molto utile comunque che l'Europa se la pianti anche alla luce del risultato conseguito da Orban di fare processi, un'Europa tutta introflessa a dare punizioni, sanzioni, procedure di infrazione mentre il mondo scoppia. L'Europa deve lasciare in pace gli Stati nazionali e deve invece svolgere il suo ruolo politico di regolatore delle controversie internazionali.